Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Il celebre cantautore Pino D'Angio, nato a Pompei il 14 agosto 1952 come Giuseppe Chierchia, è scomparso all'età di 71 anni. La notizia della sua morte, avvenuta il 6 luglio, è stata annunciata dalla famiglia attraverso un commovente messaggio su Instagram. Pino D'Angio raggiunse un enorme successo negli anni Ottanta con il brano Ma quale idea? Italia, considerato uno dei primi esempi di rap italiano. Il suo talento lo portò a essere premiato come miglior paroliere d'Italia e a scrivere per artisti di fama come Mina, conquistando anche il pubblico internazionale. Nella nota pubblicata sui social, la famiglia ha espresso il proprio dolore e ha reso omaggio all'artista, definendolo un dono prezioso per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Dopo un periodo lontano dalla scena musicale a causa di problemi di salute, D'Angio era tornato alla ribalta nel 2022, collaborando prima con Franco 126 e poi con i BNKR 44 durante il Festival di Sanremo. La sua carriera è stata eclettica, includendo anche ruoli come doppiatore, produttore musicale e conduttore radiofonico e televisivo, oltre a una performance teatrale e un ruolo nel film Il Camorrista di Giuseppe Tornatore. La sua musica ha recentemente trovato nuova popolarità grazie ai social media, avvicinando le nuove generazioni al suo leggendario repertorio.